Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Furti in spiaggia in un distributore di benzina Denunciati due uomini dalla polizia di Fano La vigilanza blocca un ladro a Sassonio di Fano E lo fa arrestare dai carabinieri 18enne fanese finisce domiciliari Lieve scossa di terremoto avvertita tra Pesaro e Senigallia Paura tra i bagnanti ma nessun danno a cose o persone False peck dell'Inps, la CNA allerta le imprese Fate attenzione alle truffe informatiche Vitellino sbranato da un lupo in pieno giorno a Isola del Piano La sconsolazione degli allevatori, abbiamo subito oltre 10 attacchi Pescherecci all'ormeggio, scatta il fermo pesca da Trieste d'Ancona Si tornerà in mare il 27 agosto prossimo Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia Con Marco Ferri Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV Benvenuti sul canale 17 Cominciamo il telegiornale con la cronaca La polizia di Fano ha denunciato per furto Un turista italiano e un nordafricano Il primo ha rubato un cellulare in spiaggia All'Ido di Fano Il secondo invece ha fatto il pieno di benzina Ai danni di una donna fanese Appoggia il cellulare per aiutare i bimbi a fare la doccia E un uomo glielo ruba E' successo nei giorni scorsi in uno stabilimento balneare a Lido di Fano Dove un turista proveniente dal nord Italia Ha sottratto di nascosto il telefono D'ingente valore lasciato per qualche istante dal papà Su una pensilina Accortosi della scomparsa Il malcapitato anche egli turista Allertato il 113 I poliziotti sono giunti sul posto E grazie all'esame dei filmati Delle telecamere di videosorveglianza Sono risaliti all'identità del ladro Ripreso nell'atto di impossessarsi dell'apparecchio L'autore del furto è stato rintracciato e denunciato Mentre il telefono rinvenuto all'interno del suo alloggio E' stato restituito al legittimo proprietario Gli agenti poi sono intervenuti In un distributore di carburante Nella zona dell'aeroporto Qui una fanese intenta fare rifornimento Ha inserito il bancomat nell'apposita macchina Ha digitato il PIN Dimenticando però di selezionare il numero della pompa di benzina da attivare Mentre la donna persistendo nel suo errore Ha cercato in vano di azionarla Uno straniero di origine africana Fermatosi anche egli per fare il rifornimento Si è reso conto della situazione Ed ha ben pensato di sfruttarla in suo favore Ha selezionato l'erogatore Nel quale aveva fermato il suo veicolo E ha effettuato il pieno per l'importo di 90 euro Che è stato addebitato sul conto della donna La fanese che solo in un secondo momento Si è resa conto dell'accaduto Ha sporto denuncia Dopo le indagini del caso E la visione delle immagini delle telecamere I poliziotti hanno identificato l'autore Denunciandolo all'autorità giudiziaria Per furto aggravato La vigilanza privata invece è intervenuta a Sassonia di Fano Dove la notte scorso intorno alle 2.30 È scattato l'allarme al bar Adriatico Dopo aver notato il tentativo di effrazione dei danni del locale Sono scattati i controlli sul lungomare Durante il giro ispettivo nelle strutture balneari Il ma vivente è stato sorpreso alle 4.30 Ai bagni Carlo Intento a scassinare un distributore automatico di bibite Alla vista della vigilanza Il ladro si è dato alla fuga Ma la gente è riuscito subito a bloccarlo Ed allertare i carabinieri di Fano I militari giunti sul posto lo hanno perquisito Trovandolo in possesso di alcune monete rubate E lo hanno portato in caserma Si tratta di un fanese di 18 anni Già con precedenti per furto Oggi poveriggio si è svolto a peso Il processo per direttissime Il giudice ha confermato l'arresto E ha messo il ragazzo agli arresti domiciliari Una lieve scossa di terremoto È stata avvertita nel primo pomeriggio di oggi All'arco della costa di Senigallia Nel mare Adriatico Breve la durata Pochi secondi del sisma Che ha interessato la zona conetana E che è stato registrato poco dopo le 16 A soli 4 chilometri Dalla spiaggia di Velluto Il terremoto di magnitudo 2.8 È stato avvertito da molte persone Fino a Pesaro E in particolare dai bagnanti La scossa è stata individuata Dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Ad una profondità di 9 chilometri Nessun danno a cose o persone Per il lieve terremoto Che ha solo suscitato un po' di paura In che l'avvertito Ovviamente memore Anche delle ben più forti scosse del 2016 Che hanno interessato le marche Tutto il centro Italia Adesso parliamo dell'allarme Lanciato dalla Confederazione Nazionale degli Artigiani La CNA Fatta attenzione alle truffe Lo dicono appunto quelli della CNA provinciale Dopo le false PEC dell'Inps Arrivate alle imprese locali Una probabile truffa viaggia via posta elettronica In questi giorni numerose segnalazioni da parte di aziende Sono pervenute sia alla CNA Che agli uffici dell'Inps In merito alla ricezione di messaggi di posta elettronica Certificata Con contestazioni di addebiti relativi A mancati versamenti contributivi A prima vista le richieste potrebbero sembrare riconducibili All'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale Evidentemente si tratta di una truffa Con l'intento di rubare dati alle aziende O di introdurre virus nei sistemi informatici CNA raccomanda quindi una particolare attenzione Nell'aprire questo tipo di messaggi di posta elettronica L'Inps inoltre ha diffuso un comunicato Nel quale sottolinea che l'Istituto È del tutto estraneo a tali PEC E le segnalazioni pervenute Sono state inviate alle autorità competenti L'Inps ricorda poi a tutti i cittadini Di non dare seguito a richieste ambigue Che arrivino via mail E che l'unico link per accedere alle informazioni Ai servizi e alle prestazioni dell'Istituto È quello che leggete in sovraimpressione E che potrete trovare sul nostro sito OcchioAllanotizia.it Chi continuerà a vendere la cosiddetta cannabis light Rischia l'accusura del negozio La sospensione della licenza Il sequestro della merce È quello che ha ricordato oggi il prefetto di Pesaro Rubino Vittorio Lapolla I sindaci dei comuni della provincia In cui ci sono 25 negozi Che vendono prodotti derivanti dalla canapa Di cui circa la metà a Fano, Pesaro e Urbino Il prefetto ha richiamato l'attenzione dei sindaci Sulla necessità di informare i titolari Degli esercizi commerciali Interessati dalla recente pronuncia Della Corte di Cassazione La quale ha stabilito che la commercializzazione Di tali prodotti A prescindere dalla quantità di principio attivo THC Costituisce un illecito di natura penale Traffico rallentato Questa mattina in via Papiria All'intersezione con via 4 Novembre a Fano Dopo il rifacimento del manto stradale La provvisoria rimozione dei sensori Collegati al sistema di telecamere di controllo Della circolazione Questa mattina una ditta specializzata Provveduto al ripristino del servizio Quindi i dispositivi torneranno a funzionare a breve E verranno utilizzati per sanzionare gli automobilisti Che passeranno con il semaforo rosso Rischiando una multa fino a 666 euro E 6 punti della patente O che supereranno la linea bianca di arresto Con il semaforo arancione In quest'ultimo caso La sanzione andrà da 42 a 173 euro Un vitellino appena nato È stato sbranato da un lupo L'allarme è scattato da parte dei proprietari Di un'azienda agricola Che si trova a Isola del Piano Erano le 10 del mattino Quando un vitello appena nato È stato azzannato da un lupo Nei pressi dell'azienda agricola Dei fratelli Ambrogie A Isola del Piano L'animale è morto Dopo circa mezz'ora dall'aggressione A causa del morso che ha perforato il polmone Vani tentativi di soccorso Da parte del proprietario In quanto il vitellino È stato trascinato in fin di vita A pochi metri dal luogo In cui è avvenuta l'aggressione Lasciato poi dal predatore Nei pressi di un palo bianco generico Della luce Nelle immediate vicinanze Il vitellino l'ho trovato vivo Ancora ferito Assieme al lupo Che si rovesciavano nel campo Si rotolavano nel campo Il lupo quanto ha visto è andato via Io ho portato via il vitello Che dopo mezz'ora è morto Ovviamente il lupo Come mi diceva L'ha trascinato fino a pochi metri Poi dalla distanza 100 metri più o meno Non l'ha portato fino al confine del recinto Che lo portava via Questi episodi non sono singolari Mi diceva che sono capitati anche altri Ma più di una decina di volte Sui vitelli Anche su un asino Mi ha portato via È la prima volta che trovo L'animale morto Se no non l'ho mai trovato L'azienda agricola vanta Di numerosi esemplari di animali Tra cui mucche, vitelli, ocche e galline E la presenza costante dei lupi Sia di giorno che di notte Preoccupa per l'incolumità degli animali Ma anche dei bambini presenti all'interno Da come ci raccontano i proprietari Da diversi giorni Si aggira nella zona un utrito branco In cerca di prede La paura è tanta Ci raccontano fuori dalle telecamere In quanto è possibile Che i temibili predatori Possano entrare anche all'interno Dell'abitazione ubicata Nelle immediate vicinanze alle stalle Ed è stato esteso A tutto il territorio regionale Il contributo per contenere I danni causati dai lupi Specie protetta Agli allevamenti marchigiani Dopo il successo Dello scorso anno Con 153 domande Pervenute dai territori montani Ora la Regione ha allargato A tutte le marche La possibilità di richiedere contributi Per attenuare il conflitto Tra allevatore e lupo I contributi Da 1,8 milioni di euro Sono riservati Alle aziende zootecniche Gli allevatori potranno così Acquistare o adeguare Le recinzioni Dotarsi di dissuasori acustici E visivi E prendere cani pastore Per contenere la predazione Dei lupi Sugli animali Da allevamento E parliamo adesso invece Del fermo pesca Scatta nelle marche Fino al 27 agosto La Coldiretti Dice 8 pesci su 10 Vengono dall'estero Dunque è bene Verificarne l'origine Stop al pesce fresco A tavola Per l'avvio Del fermo pesca Che porta al blocco Delle attività Della flotta italiana Lungo l'Adriatico A darne notizie Coldiretti Impresa pesca In occasione Dell'avvio del provvedimento Per risparmiare Le risorse del mare Che scatta proprio In occasione Dell'overshot day Il giorno in cui L'uomo ha già utilizzato Tutte le risorse naturali Che la terra può rigenerare Nell'intero 2019 Il fermo pesca Sottolinea Coldiretti Bloccherà infatti Le attività dei pescherecci Per 30 giorni consecutivi Dal 29 luglio Fino al 27 agosto Dal Friuli Venezia Giulia Al Veneto All'Emilia Romagna Fino a parte Delle Marche Puglia Fermo pesca Che avviene In un periodo dell'anno Particolare Per i consumi Questo fa sì Che le importazioni Aumentino In questo periodo Le importazioni Sono aumentate Dal 27% All'80% Questo significa Che un pesce su 5 Come dice Coldiretti È un pesce Di importazione In un paese come l'Italia Che importa dall'estero 8 pesci su 10 Nei territori interessati Dal fermo biologico Aumenta peraltro Anche il rischio Di ritrovarsi Nel piatto prodotto Straniero O congelato Se non si tratta Di quello fresco Made in Italy Proveniente da altre zone Dove non è nato Il fermo Coldiretti Esprime Il proprio disagio Nei confronti Del ministero Che dopo 35 anni Ribadisce giardini Il fermo pesca Ha ottenuto Pochissimi risultati Attraverso questa formula È una formula Che abbiamo visto Debole Che non riesce A sostenere Le nostre imprese E che ha aperto Il mercato Alle importazioni Abbiamo fatto Delle proposte Delle proposte Di gestione Del fermo Tramite aree Di nursery E scelta individuale Delle imprese Del periodo Di fermo In un arco temporale Che va da giugno A settembre Mai come quest'anno Il paese Dei balocchi Esalta Il terzo settore Sabato Infatti Il professor Stefano Zamagni Esperto internazionale Di economia civile Ed etica Sarà insignito Del ruolo Di cittadino Onorario Dell'evento Zamagni È il primo Italiano Della storia A ricoprire Il ruolo Di presidente Della pontificia Accademia Delle scienze Sociali Ed è stato Presidente Dell'agenzia Per il terzo settore Meglio nota Come agenzia Per le Olus L'organismo Di diritto pubblico Che opera Sotto la vigilanza Della presidenza Del consiglio Dei ministri Per il terzo anno Consecutivo È stata Dedicata All'autismo La notte Dei desideri Che si è svolta A Marotta Nel comune di Mondolfo Ospite D'eccezione Il vincitore Di tale quale show Antonio Mazzancella Non un semplice lancio Di palloncini O di lanterne Ma uno spettacolo Di arte varia Per sostenere Filo blu Dell'autismo Dedicando la serata All'Onfalos Un'associazione Che dal 2009 Si pone Come punto di riferimento Per le famiglie Toccate da questa disabilità È la notte Dei desideri Andate in scena In piazza Dell'unificazione A Marotta Nel comune di Mondolfo Che ha assunto Ancora una volta Un duplice significato Da una parte La partecipazione Ad un evento Che ha coinvolto L'intera costa marchigiana E dall'altro L'importante aspetto Della sensibilizzazione E vicinanza Al mondo dell'autismo Da tre anni Che organizziamo Questa notte Blue desideri Assieme all'associazione Onfalos E quindi c'è Un aspetto Legato al turismo Però abbiamo Un aspetto Molto importante Che è quello Dell'autismo Siamo diversi Ma unici E ripetibili E sai una cosa? Va bene così Non potrebbe essere Più bello di così Il ricavato Della serata Ad offerta libera È stato interamente Devoluto all'Onfalos Qui a Marotta La notte dei desideri Assume un significato Particolare E punte riflettori Su dei desideri speciali Che sono quelli Dei genitori Di bambini Ragazzi con autismo Di che cosa hanno bisogno Le famiglie? Le famiglie hanno bisogno Di tanta solidarietà Hanno bisogno Di parole Di conforto Di parole Anche che Le scuotano Per uscire Dal loop In cui ci si infila Dopo una diagnosi Del genere Che è peggio Di una sentenza Di morte In una piazza In una piazza aggrimita Cittadini e turisti Hanno potuto ammirare Esibizioni di ballo Canto e recitazione Di alcuni artisti locali Ma anche quella di Giuliano Un ragazzo autistico Che ha fatto emozionare Tutti i presenti Applausi scattati Anche per l'ospite Ed eccezione L'artista comico Imitatore Antonio Mezzancella Vincitore 2018 Del programma Tale quale show Fin da piccolissimo Ho cominciato a imitare Qualsiasi cosa Quindi dai cartoni animati Le sigle Gli amici di famiglia E quindi Piano piano È diventato Incredibilmente Un lavoro Come saluterebbe Uno di loro I telespettatori Di Fano TV Ma io ringrazio Tutti quanti Vedo sempre Fano TV Tutte le notti Quando torno a casa Grandissimo Ciao Sapevo che la fine Era difficile Ci ho provato Un'ultima volta Ad allungare Ma ho capito Che bisognava Giocaci Nell'ultimo giro C'è chi ci trascina Poi della macchina Una biblioteca Per il dialetto marchigiano È stata approvata Dalla prima commissione La proposta di legge Di valorizzazione Dei dialetti marchigiani Come parte fondamentale Del patrimonio culturale Della regione Una proposta di legge Commenta soddisfatto Il primo firmatario E ideatore Boris Rapa Che ha l'obiettivo Di conservare I vernacoli locali Mediante l'istituzione Di una biblioteca Dei dialetti Marchigiani Un fondo di raccolta Con documenti Audio, video E cartacei E il sostegno Alla diffusione Grazie al supporto Finanziario Alle compagnie Teatrali Agli scrittori Ai poeti A tutti coloro Che utilizzano I dialetti Contribuendo A tramandare Le nostre radici E adesso Parliamo invece di sport Dovevano svolgersi All'aperto Invece Il maltempo Ha costretto Gli organizzatori A cambiare i piani Senza però Riuscire a rovinare La festa Della bocciofila San Cristoforo E del circolo Le Fontanelle I presidenti Paolo Marchioni E Pietro Guidi Dal 22 al 27 luglio Hanno organizzato La dicesedesima edizione Della consueta Gara di bocce Partecipata Quest'anno Da 112 coppie Provenienti Dalle province Di Pesaro Ancone e Rimini Dominio Delle maglie Azzurre di casa Nella categoria C Con quattro coppie Nelle prime Quattro posizioni A vincere Sono stati Claudio Antonioni E Adriano Serallegri Sui compagni Di squadra Giuseppe Del Vecchio E Riccardo Campanelli Podio per Stefano Donati Andrea Alessandroni E Roberto Pedinelli Pietro Guidi Ed è finito Invece ad Ancone Il trofeo riservato Alla categoria A e B Vinto da Alessandro Marchegiani E Patrizio Badiali Del bar Cardelli Di Monsano E continua La rassegna teatrale Dialettale Teatro sotto le stelle Questa sera Alla BCC Arena Di Tre Ponti A Fano Sta per andare in scena La compagnia La piccola ribalta Che porterà Lo spettacolo Dal titolo I Pense Me O I Pense Me Me Detto in italiano Me è più inglese La commedia Inizierà Alle 21 Lo ripeto Questa sera Quindi tra poco Per chi segue L'edizione Delle 20 e 30 A seguire Dopo di noi C'è un approfondimento Della CNA Sugli appalti L'informazione invece Torna domani mattina Alle 7 Nella nuova collocazione oraria Con la rassegna stampa Grazie per essere stati con noi Buona serata a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.